Sta ormai diventando una tradizione che ogni anno rapisce il cuore scannese e non solo. Si rinnova così la magia dei fuochi sul lago di Scanno, cielo illuminato e stellato, una cornice spettacolare per ospitare un altro evento molto atteso per l'estate del centro Abruzzo. Per 30 minuti i giochi pirotecnici sono tornati a regalare fascino, unendo acqua, fuoco, terra e cielo, incantando i tanti turisti e fedelissimi alla consueta manifestazione. Tutti con il naso all'insù ad ammirare eleganti ventali luminosi e cascate scintillanti, un momento immortalato dagli utenti del social network che hanno trovato lo scenario ideale per scattare qualche foto e diversi selfie, un'occasione anche per alzare lo sguardo in questo momento difficile, guardare in alto, osservare il cielo per ritrovare la forza di proseguire il cammino della vita, momenti insomma che per gli amanti della natura e della bellezza non possono mancare. L'organizzazione dell'evento anche quest'anno è stata curata dalla pluripremiata fabbrica fuochi artificiali a mitoni di cerchio. Prima della fiaccolata la serata è stata lietata dal consueto spettacolo musicale.